Intanto penso che siano tutte gente mature per il volley, nel senso che di queste situazioni ne nascono ogni anno e ne muoiono ogni due anni. Qua io penso che siano persone particolarmente intelligenti, che hanno messo assieme la forza femminile di queste tre società, che sicuramente rappresentano una parte sud della provincia di Previso e che con alcuni risultati riusciranno sicuramente a dare soddisfazione alla loro comunità, ai loro allenatori e alle loro società.